Oggi vi preparo un primo con il mollusco più pregiato del nostro mare, il tartufo. Olio, due gambi di prezzemolo, aglio e ricordatevi, i tartufi vanno sempre spazzolati bene, bene, bene prima di cucinarli. Alziamo l'aglio, alziamo i gambi di prezzemolo e bagniamo con un po' di brodo di pesce. Alziamo i tartufi, scoliamo la linguina. Rimettiamo i tartufi con la linguina. Un po' interi e un po' sgusciati. Guardate com'è ben legata, succo lenta, guardate che bella. E maciniamo generoso del peso abbondante. Filo d'olio a crudo. Adesso veniamo alla parte più dura del mio lavoro, l'assaggio. Questa linguina la vendiamo a 25 euro, secondo te sono tanti o pochi? Fammelo sapere nei commenti. Ha regalato a 25 euro, ma no. È troppo buona, la alziamo a 30 euro.